Abbiamo fatto la raccolta per le famiglie più bisognose e a quanto pare la gente ha collaborato e comunque c'è stato un impegno da parte del direttivo del forum, di tutti i ragazzi. Non siamo nemmeno partiti ufficialmente, già abbiamo fatto la prima iniziativa. Come inizio non ci possiamo lamentare, comunque questa raccolta la continueremo anche in futuro perché comunque serve una mano alle famiglie più bisognose. Il forum ringrazia tutte le persone che ci hanno dato una mano per la raccolta. Vogliamo innanzitutto ringraziare il forum dei giovani per la raccolta che è stata portata a termine in questi giorni per le famiglie cevinierese in difficoltà. Noi della comunità in Mediante Caudina 321 abbiamo dato il nostro apporto alla raccolta e vogliamo solo lanciare un messaggio alle varie associazioni di volontariato che sono sul territorio che ognuno, avendole contattato in questi giorni, non ufficialmente perché già avevano fatto le loro piccole raccolte per loro piccoli orticelli. Vogliamo lanciare solo questo messaggio. La prossima volta, visto che le raccolte saranno continue, noi vogliamo solo proporre una raccolta di tutta la comunità. Cervinarese e volendo un domani anche Caudina, solo questo, senza polemiche e senza fare campagne elettorali. Cervinara ha bisogno di aiuto e i veri cervinaresi sono qui pronti a darlo. Grazie. Grazie.